a me piace vivere qui ci sono misteri nascosti in ogni dove dai twig ho bisogno del mio album fatta è ora di andare hilda dovremmo trasferirci a trollberg ma siamo qui da tutta la vita da quando sono nata a me piace vivere qui ciao scommetto che non avremo vicini così a trollberg ci sono degli spifferi dovreste chiudere quella porta chiedo solamente di considerare la cosa potresti divertirti più di quanto pensi non cambia il fatto che non ci siano creature interessanti sono hilda mi sono trasferita diventiamo amici noi siamo passerotti amichevoli e di aiuto questo è incredibile c'è un mondo gigantesco là fuori c'è così tanto che non abbiamo visto è che non sappiamo è questa la vita di un avventuriero quindi Grazie a tutti.